e Allora mi piace e benvenuti in questo mio video! Oggi siamo qua su Pikmin 3 ovviamente ma, ripeto, ovviamente in compagnia di mio padre. Ciao! Bene, praticamente in questo gioco devo dire che noi siamo abbastanza scarsili E ogni volta che ci giochiamo dobbiamo rivedere tutti i tasti Perché non sappiamo niente Comunque, praticamente abbiamo fatto questi quattro e ci manca il cinque Poi comunque ovviamente sono tutti questi altri che poi vedremo in futuro se acquistare o meno Tanto ci sono un sacco di minigiochi Quindi ci basta anche così Allora, intanto uno, clicca là Almeno siamo in due Però non capisco perché tu sei maschio E' uguale, non c'è problema Ok Posso devo cliccare prima io? Oh caspitella Di nuovo, rifacciamo perché siamo bravi Ok, perfetto Ok Ora dobbiamo fare il quinto, ora devi muovere tu Andiamo Al cinque Perché è la cosa bella Bella Praticamente abbiamo collezionato Sotto sotto a... Uhuh Serra a luce Ok, qui già vedo che lì sono dei pikmin che dobbiamo raggiungere in qualche modo tremendo E... Perché mi beccato a... Ah Comunque, vabbè A quanto pare, ecco abbiamo quelli blu Prendili tu quelli blu, dai Io devo vedere di quale Ah, siamo comunque una femmina C'è comunque un maschio Sì Ah sì Così, ok Tu prendi intanto queste ciliegie Dovrebbero essere utile Questa cos'è? Ah, comunque ho visto che abbiamo Quelli blu che resistono all'acqua Quelli bianchi, velenosi Ah, prendi questa soprattutto E' quelli oro che valgono di... Eh sì, sì, me li guardi i tasti? Eh sì, ok Ok, eccoli qua, li ho trovati Perfetto Vedo dei mostri che sinceramente non mi piacciono per niente Caspiterella Nooo, non c'è il provare mai nella vita Io non mi so capito E ora comunque mi voglio piano piano Ok, aiuto No, non mi attaccare Ok, qui stanno prendendo un sacco di roba Ok, qui a me stanno prendendo delle pepise Tipo Se trovo gli altri magari ma Complicato Forse Attenzione a questo Attenzione a questo Che vuole questo? Eh, mangiare i pikmin Ah Siamo attenti eh Fortunatamente sono molto più veloci E non riescono a prenderlo Però Dobbiamo stare comunque Ok Te ne lancio alcuni Vedi qui Vai Aspetta, aspetta, aspetta A questo tizio Buttale a loro, no? Ahia Ok Ok, l'hanno ucciso L'hanno ucciso Sì, lo stanno portando E ok Qui sono gli altri Qui sono due tre Ok Quindi devo cercare Di raggiungerlo Vado qua Fino a scoperta Eh sì Ok, io sto prendendo una fragola Ho soltanto tre picmini Io però Magina Devo trovarmi una Ah, qui prendi quella La ciliggia Oro Anzi Adesso la panno Io tanto Non c'è più Ok Ho spettato Su alcun vicino Conviene Ti prendo le pepite Sì Ok Qui stanno portando E vabbè Qui lancio Uh Ho trovato gli altri Papi Eccole qua Sono nascosti Tu si sei passato vicino E non li hai visti No Io faccio Mi faccio il giro di là Voglio vedere Sì Intanto questi blu Stanno prendendo le pepite E lasciamo li fare E infatti a cui va Non riesce a passare di qua Ci servono Oh Prendi questi già Questi blu Aspetta Voi andate a vedere qua Di lui che ci sta Sì Che sono Qui non so se ci riescono Ma credo di sì Perché sono velenosi Ah Fa il giro qua Questa che roba Questi velenosi In effetti Sono molto Molto pro Non è vero Non ce l'ho per niente Pro E questi neri Che so Sono molto potenti Puoi spaccare Questi qui Diretto Ah ok Valla a spaccare Io qui lancio Questi qua No Anche questi C'ho O che ho Il mio bruto Dove Oh no Attenzione che ti lancia La roccia in testa E non muori male Uh Tra gli altri Io li uccido Ecco qua Ecco qua Io sto raccogliendo Anche gli altri Almeno magari Prendo Prendo questi Mostri marini Ok Però ci mette un casino Questo Eh si Non metti l'endo Qua Ok Ecco bravo Io intanto prendo questi Così I miei neri Dove sono veniti Ma ci stanno Questi qua Ok ce n'è uno Prendo Sta lì Ok Di qua ce n'è anche un altro In realtà Però Cavolo Lì Non so se Ah ok Io prendo Sia quelle venenose Che sono qui Che quelli Soprattutto all'acqua La sola Devo riprendere gli altri Io non ci arrivo Sì sì Eh no Beh Devi fare il giro Purtroppo Forza Guarda quanti ce ne sono Blu Li utilizzo tutti quanti Guarda Sono un sacco di pepite Di fragole Qualsiasi cosa Buono 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 Abbiamo 33 minuti Però Soprattutto 3000 minuti 3000 minuti Sono morti Un sacco Di cose Di chi Sì Perché un tizio Mi ha lanciato la roccia Dobbiamo scappare Ok Io vado di qua Va bene La cosa c'è Ok Sto prendendo Tutte queste cose Ma questa roba che è E devi disorgerlo Esatto Con quelli lì E poi dentro Scavi E prendi un sacco di roba Ah no Ti fa passare su Guarda Passaci sopra Guarda Passaci sopra Ah ok Perfetto È molto più comodo Insomma Ok Ok qui ho finito Un attimo Pikmini blu Mi serve di andarla Riprendere O qui Esatto Io posso passare Anche per di qua Che è molto più comodo Io non boll'atica qua Sì sì È buono buono Meglio Però attenzione Ci devi andare Soltanto con quelli blu In acqua Perché se no Ah altrimenti muoiono Vedi Eh sì Allora devo stare Oh qui saranno C'erano dei pikmini nascosti Qui non l'avevo neanche visti E allora Stavo Eh Io ce la neri Come facciate Di vederli Non lo so Prova a cliccare tutti i tasti Trani quelli che dice appunto lancia Perché se no Ah eccoli qua Guarda Ah ok Io sto raccogliendo Qui ce ne sono altri blu Li riprendo Ok Oh Strumolo Che è successo Oh no Oh no Se li sta mangiando Quelli blu Sì un branchio Guarda Guarda tu Comunque sto prendendo E adesso ci punto questi No 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 Affogano Affogano Lascia stare È meglio che lasci stare Sì Sennò potrebbe Mordire Oh qui c'è un sacco di pikmin E poi io ho visto Il blu Eh sì Sennò stiamo portando La frago d'oro Io credo che dai Qualcosa ci siamo guadagnati Fino ad ora Comunque Vieni la riprendere tu È al centro Perché Mi sto prendendo tutti Che non vengono le giuste No no Sono qua Guarda No di quel centro Ce ne sono altri Non è giusto che mi sto prendendo tutti io Allora Da sopra No sbagliato No no Ok Ok Stanno prendendo altri pikmin Sono riuscita a raggiungere Oddio guarda Guarda Guardi ce ne sono qui Perché questo non riesco No 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 Ah questo mi vuoi Sì sì Quelli che stanno lavorando Lasciali Che non mi va sopra Ma una orca miseria Ah ma guarda Lì puoi salire Dove Da lì Vedi Qua No Eh sì guarda Ci sono io Come faccio a salire Ah qua Qua Eh sì Ma c'è da roba Ma scordi Vabbè Ok Basta che ci siamo riusciti Dai Ci manca 15 secondi È finita ormai Mamma mia Però abbiamo raggiunto Forse quella di Forse quella d'argento Non so Proprio ho fatto veramente Pronti Da tutti i costi Qua poi Quelli che prendono Sì Eh non ci arriveranno mai Comunque Stai facendo morire tutti Vabbè Stai bilanciando a casa E ormai Vediamo comunque il risultato Guarda le ciliegie 12 su 12 L'abbiamo presa E poi Incredico Sono morti 6 Soltanto Guarda un po' Che il risultato Quasi impeccabile Le cose oro Più o meno L'abbiamo presa Guarda quella fragola Che ci rimaneva lassù Guarda la ciliegie No Quella che è pronto Io pensavo Quella d'argento Ok dai Fini cacchioli E niente ragazzi Eccoci qua Abbiamo completato I 5 Poi vi ripeto Se magari Prendiamo quelli lì Non si sa In più In più In più Ditemi Dice 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 Magari Sotto nei commenti Se Nel prossimo episodio Volete Combatti i nemici Abbatti i colossi Oppure Comentate E comunque Ragazzi Io direi Che possiamo Fermarci con Questo episodio Lasciate mi piace Commentate E iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete fatto Ciao a tutti E iscrivetevi al canale